Quanti abitanti ha la provincia di Pisa? Quante torri pendenti ci sono a Pisa? Chi ha segnato il primo gol del Pisa in questo campionato? Il club in cui Mr. D'Angelo ha giocato più partite? Moscardelli è nato in? In quale club è cresciuto Soddimo? Sampdoria Un vostro compagno ha esordito in Serie A contro la Juventus, chi è? In grosso Hai già detto, lo tocca a me Questo è deciso tra Pisano e Caracciolo Dico Pisano No, sì Caracciolo No, no, no Sottimo Marconi Atalanta, è vero Antonio Caracciolo ha anche un secondo nome, sapete qual è? Aldo Perché c'è su Whatsapp Su Whatsapp? Da Aldo, infatti c'è chi era Aldo? Gori ha vestito la maglia di due club che sono attualmente in Serie A, quali? Prish e Mina Dove è nato Andrea e in quale anno? Monda 96 Dove è nato Samuele e in quale anno? Pisa 99 Ah, vabbè vabbè Non scopriamo Quante Mitropa K ha vinto il Pisa? Una Due 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 Non sta niente Non sta niente In quale club è cresciuto Simone Benedetti? In Torino Torino Il giocatore che ha segnato più gol nella storia del Pisa? Piovanelli Io dico Castiglio Andrea Ciao Ciao